Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira burda, collio e quai. Sono Claudio Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. La Guardia di Finanza di Pordenone ha disposto un nuovo sequestro nei confronti di un avvocato, amministratore di sostegno, indagato per sottrazioni di denaro a soggetti disabili. Anche in questo caso, come per il precedente, per la Procura il professionista aveva sottratto la pensione di invalidità e altre risorse finanziarie a un soggetto fragile. Le Fiamme Gialle hanno dunque eseguito sequesti preventivi per complessivi 197 mila euro. Se per la Guardia di Finanza di Pordenone, lo scorso mese di novembre, aveva denunciato l'avvocato, tutt'oggi regolarmente iscritto all'ordine professionale, come conferma il comandante delle Fiamme Gialle, Stefano Comentucci, che dopo essere stato nominato amministratore di sostegno di una persona disabile, si era indebitamente appropriato del denaro del proprio assistito, utilizzandolo per scopi personali. Nei suoi confronti era stato in precedenza disposto dall'autorità giudiziaria un sequestro per equivalente di quasi 147 mila euro, pari alla somma indebitamente sottratta. Come per il primo filone di indagini, anche in questo caso è stato acclarato come l'amministratore di sostegno nel periodo 2013-20, in luogo dei compiti previsti, utilizzasse il patrimonio dell'amministrato per scopi strettamente personali, provvedendo a prelevare il denaro in contanti dai rapporti bancari da questi gestiti o attraverso l'emissione di assegni a proprio beneficio. In alcuni casi è stato anche riscontrato che dal conto corrente del disabile erano stati disposti pagamenti a favore della società di leasing proprietaria dell'autovettura in uso al professionista del condominio presso in cui assede lo studio legale e di un esercizio commerciale per l'acquisto di abbigliamento griffato. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? L'Umi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. L'Umi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. L'Umi Beer si abbina a qualsiasi palato. L'Umi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.